Nuova puntata di Affare Trattore incontro, il format nato da un'idea di affaretrattore.it. Oggi con noi Francesco Monaco, titolare di OM Costruzioni Meccaniche, azienda che progetta e realizza macchine agricole, puntando sull'alta specializzazione e sull'innovazione tecnologica e organizzativa. OM Costruzioni Meccaniche, una lunga storia di successo. Che evoluzione e che crescita ha avuto la sua azienda? La OM Costruzioni Meccaniche nasce nel 1989 per opera di mio padre, che dopo un trascorso come rivenditore di trattori, vuole intraprendere una nuova sfida imprenditoriale volta alla realizzazione di macchine per i trattori. C'era un obiettivo comune, quello di allargare la propria rete vendita e quello proprio di implementare e di migliorare quella che era la produzione per renderla più accessibile, più vendibile proprio su tutto il territorio nazionale. I primi anni furono anni molto molto duri, perché per rimporre il nostro brand e farci spazio tra quelli che erano marchi già noti, ci imponeva di puntare su un discorso di qualità. Le nostre macchine dovevano essere costruite meglio della concorrenza, affinché potevano essere apprezzate dalla clientela. Quindi, oltre che qualità, siamo stati a puntare anche su un discorso di elasticità, quindi proprio di venire incontro a quelle che erano le esigenze del cliente, le richieste del cliente. Sono state costruite macchine sempre più innovative, macchine che erano apprezzate sempre più dalla nostra clientela. Oltre questo, c'era quella passione, quella passione proprio di curare il particolare. Specializzazione, passione e innovazione sono alla base dell'OM Costruzioni Meccaniche. Qual è la macchina di punta e in quale zona è maggiormente venduta? Di macchine ne abbiamo tante. Quelle che attualmente vanno sono i frangizolle, le macchine per la raccolta dei sassi, i coltivatori a dischi. Cioè tutte macchine che consentono una rapidità di lavorazione del terreno e quindi che permettono al professionista del settore di rendere il proprio lavoro il più redditizio possibile. Il nostro bacino di utenza attualmente è territorio. Principalmente siamo presenti nel centro-sud ma nulla toglie che ci sono vendite anche richieste su tutto il mercato nazionale e oggi come oggi stiamo prendendo accordi commerciali con aziende che operano a livello mondiale. È possibile accedere a degli sgravi fiscali per l'acquisto di una delle macchine agricole prodotte e realizzate dall'OM Costruzioni Meccaniche? Assolutamente sì. Ci sono degli incentivi correlati alla 4.0, degli incentivi sul credito d'imposta, quelli che sono degli incentivi alle innovazioni, quello di rendere le macchine le più innovative possibili per ridurre l'impatto ambientale. Cercare un prodotto su Affari Trattore.it è molto semplice inserendo direttamente il modello di interesse o navigando tra le categorie. Ogni annuncio sarà correlato di foto, video e scheda tecnica. Affari Trattore.it permette poi di parlare direttamente con il costruttore che saprà indicare il concessionario di zona più vicino.